Criticità diffuse per le persone con disabilità che si recano all'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. E' questo l'oggetto di una specifica nota inviata dal neocomitato civico articolo 32. Nella principale struttura ospedaliera di Ragusa i disabili è riservato un particolare trattamento, a partire dalla individuazione degli ascensori funzionanti. Infatti, spiega il comitato di cittadini recentemente costituito, chi si rega in ospedale nota subito che alcuni ascensori delle torri A e B sono perennemente fuori servizio. Le sale di attesa degli ambulatori sono prive di sedie sufficienti per gli utenti. Anche in tema di bagni per i disabili, secondo il comitato, sono necessari cambiamenti. In neurologia i pazienti in dei ospital spiegano i vertici del comitato, costretti nella sedia a rotelle o collegati ad una flebbo, hanno incredibili difficoltà di usufruire dei servizi igienici. Ma la specifica inagibilità dei bagni è uno dei primati del Giovanni Paolo II. Questi rilievi, conclude il comitato civico, che possono apparire pretestuosi o marginali, non sono altro che un minimo esempio delle difficoltà che quotidianamente affrontano le persone disabili.